Musica 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 Ben a tutti ragazzi sono Dav Vi do il voluto in questo nuovo video Siamo oggi con un nuovo episodio della carriera Con la nostra internazionale Carriera possiamo dirlo tra virgolette Perché è il nostro Riccardi Ad averci portato insieme alle vittorie Ad avere questa formazione Due sono i giocatori che dobbiamo andare ad acquistare Dall'episodio precedente Andiamo immediatamente ad inserirli Mettiamo naturalmente il nostro campionato italiano Squadra Inter Ok Il primo è Yuto Nagatomo Come esterno di sinistra E poi il CDC Abbiamo Gary Medel Che è andato a sostituire Joel Obie Come vedete poi ci sono qua I tre giocatori che ho sostituito Poi piano piano li metterò in banca Allora Come vedete abbiamo Tutti i giocatori dell'Inter Tranne quel terzino destro Che come ho letto anche dai vostri commenti Probabilmente farò questa azione qua Metterò lui come terzino E poi andrò a prendere l'esterno destro Che è Xardar Shaqiri Però vediamo Prima Preferisco andare a rimuovere Prima i giocatori Argento E poi vediamo Come sistemare la situazione Andiamo a cercare il primo Avversario di oggi E andiamo a vedere un po' Che andiamo a cercare Ok ecco il nostro avversario Ragazzi Una squadra Parecchio strana Un'ibrida Però Fatta molto bene Come vedete I giocatori Della Bundes Poi vediamo anche La Super League Svizzera Qualche giocatore Davanti Della Liga Svedese Tra l'altro Anche un giocatore In form Può partire il match Dav Crew Contro The Lions Vediamo chi sarà A battere Sarà proprio lui Ecco i suoi giocatori E inizia Ora Il match Oh che pallone Che rimane lì No Che gol di merda 1-0 Del mio avversario Al trentesimo minuto Porca miseria Bravissimo In chiusura Poi il divino Più alto di tutti Medella adesso Per Kuzmanovic Che porta avanti la manovra L'appoggio di Kuzmanovic Per Kovacic Kovacic fa andare Maurito Attenzione a Maurito Tu per tu col portiere Maurito carica il destro Cosa ha parato Il difensore Praticamente In scivolata Nega il pareggio Azzola Lancia Alla perfezione Il nostro Maurito Il destro di Mauro Che miracolo Porco due Che cosa mi ha preso Con Nagatomo Sulla sinistra Yuto Il cross al centro E per Riccardi La palla rimane lì Per il divino Il destro Che gol Sempre lui Il divino Jonathan Che gol Guardiamo ancora Il cross Di Nagatomo Lo stop E il tiro All'incrocio Dei pali Per un gol Fantastico 57 sul cronometro 1 a 1 Bravissimo a chiudere tutto Il nostro difensore centrale Andreoli Adesso Kovacic A fare andare Maurito Poi muovi tutto per tutto Il portiere Maurito Il sinistro E balda risultato Mauro e Catti 2 a 1 Settantesimo Guardiamo ancora La palla fantastica Di Matteo Kovacic Il sinistro è Precisissimo Per il 2 a 1 Grandissimo Mauro Bravissimo in chiusura Adesso parte il contropiede Kovacic Per Maurito Che è velocissimo Vai Mauro Zio siede solo Appoggia No Bravissimo Mauro Recupera la palla Ancora lui Vai Maurito Dribula un uomo Mauro Mauro E tre nara Il destro 3 a 1 La doppietta Di Mauro e Cardi Che va a esultare così 1 a 3 E' il risultato All'ottantasettesimo minuto Dopo essere stati In svantaggio Per tutto il primo tempo Siamo riusciti A andare a ribaltare Il match Addirittura Contra i reti 3 a 1 Finisce così il match Raga 3 a 1 La doppia di Cardi E il divino Ci portano Così Sul risultato Di 3 a 1 2 giocatori Per la doppietta Di Cardi Più 1 per la vittoria Quindi sono 3 I giocatori Che andremo a prendere Proprio immediatamente Prima di andare a giocare Il secondo E l'ultimo match Di oggi Ok raga Siamo andati a acquistare I 3 giocatori Che dovevamo andare E che ci aspettavano Di andare a acquistare Il primo E' Il nostro Mvila Messo lì Cdc Insieme a Gary Medel Come terzino Sinistro Abbiamo Il nostro Davidino Santon E a completare L'ultimo posto Abbiamo Il capitano Andrea Ranocchia Questa è la mia formazione A metà episodio Quindi andiamo a fare L'ultima partita Di oggi Andiamo a cercare Quindi il nostro Avversario Speriamo di andare A trovare Una buona squadra Che possiamo andare A battere Oh mio dio Ecco il mio avversario Porca puttana Questa è una signora squadra 4 giocatori in form Tutti i brasiliani Kelvin Vitinho Jeff Oddio Questa è una signora squadra Sarà dura per la nostra Inter Ma ci crediamo Inizia il match Occhio Allan Vuole fare lo sweetie Ce l'ha fatta Porco Che culo Che schifo Soprattutto Non che culo Ci è arrivato Di un pelo E mi ha fatto Il gol della merda Rivediamo Guarda In scivolata Di un pelo Non ci è arrivato Che culo 1 a 0 Del mio avversario Villa Gira tutto per Nagatomo Vai zio Che sei più veloce Vai Nagatomo Ancora lui Vai Naga Iuto Va sul fondo Il cross al centro È per Mauro Di testa Ancora il miracolo Kovacic però Vede Molto bene il divino Il destro del divino Ancora L'ho parata La palla rimane lì però Kovacic Il cross al centro Vai Mauro Di testa Non ci credo Date un premio A quel portiere Ma che ho detto Silva Che 2 a 0 È meritato Ma quanto cazzo È meritato Bello il skill Ma dai Viene incontro Nagatomo L'appoggio È per Mauro La palla rimane lì però Il divino adesso Si gira bene Il sinistro Sempre lui Ci dà ancora speranza Il divino Johnny Grandissima azione Rivediamo Ancora Mauro Ci crede anche Con questo colpo di testa Poi la conclusione Perfetta del divino Dai ragazzi Santon Serve in Vila Che fa salire Adesso Nagatomo Nagatomo L'appoggio per Matteo Che fa andare Maurito È buona Attenzione Mauro Ha tutto per tutto Il portiere di testa Mauro Due pari Su 2 a 2 Così impara a fare Sviti E a vincere Meritatamente 2 a 2 Mauro Icardi Finiscono così I primi 90 minuti Ragazzi E guardate Un po' le statistiche 14 Cioè 14 tiri 12 in porta Contro 6 e 4 Dobbiamo vincerla Andiamo ai tempi Supplementari Finita Direttore Occhio a Nem Contro Juanjesus Nem Rientra Ancora Nem Che gol Gol Fantastico Questo Due skill Che mi hanno fregato I due centrali 3 a 2 4 a 2 Non ci credo Divino Scambia con Gary Medel Vai Johnny Ti prego Tu sei l'unico salvatore Di questa squadra Il divino Entra in aria Ci dà ancora speranze Il divino Buttati giù Il pelato Che buca il pelato E che cazzo Mi ha parato il mondo Guardalo Sto qua Ancora il divino Mette il turbo E scarica Un sinistro micidiale Ci crediamo ancora 114 Divino Che chiama 1 o 2 con Gary Medel Fallo andare Attenzione lui Ti prego Johnny Ti prego Mancano 20 secondi Ancora lui Chiamano 2 Con i cardi Il divino Il divino Il divino No Il corso Scambio corto Di là adesso E' sul fondo Vai Gary E' finita No Non è finita Finisce con Si No Con l'occasione Del divino All'ultimo minuto Strematissimo Dopo un'azione Fantastica Però Non siamo riusciti A concludere Quest'uomo qui E' stato praticamente Il migliore in campo Davvero tantissime Occasioni da rete E purtroppo Non ce l'abbiamo fatta Sarà Soltanto uno Il giocatore Che andrò a acquistare Come detto 83 Il gol di Maurito Ecardi E sarete voi A consigliarmelo Nei commenti Questo episodio Termina qui Raga Come vedete Le sue statistiche Saranno Assolutamente Ragione a me Ci vediamo Mi raccomando Lasciate un like Commentate Iscrivetevi al canale E' stata la pagina Facebook Dai link in descrizione Da GoFifacoins Vi saluto Bella raga